La certezza è che quando giochiamo da squadra belli, compatti, creiamo problemi agli avversari e questo mi rende fiducioso. Ora mi aspetto la stessa prova di determinazione e di umiltà contro un Brescia molto ben organizzato. Sarà una partita difficilissima, dovremmo essere concentrati, umili, determinati perché anche loro vengono per vincere. Per cui è una gara che tutte e due le squadre vogliono vincere, per cui dobbiamo stare molto ma molto attenti. È una squadra che conosce il calcio, che si conosce da molti anni, hanno dei movimenti preordinati, per cui dobbiamo essere veramente consapevoli delle difficoltà della gara. Ballotelli è un campione, ha il suo arco di differenti frecce per far gol, per cui si ferma con l'intelligenza e con la serenità. Bisogna essere molto concentrati, essere sereni, sapere come si muovono. E come ho detto prima dobbiamo giocare da squadra, dobbiamo essere sempre compatti perché come ci allunghiamo a loro entrano bene dentro le fila delle maglie nostre. Loro sono più abituati, è una squadra che gioca a calcio, si riconosce, gioca a memoria, gioca uno o due tocchi, sanno tutti i movimenti che devono fare, sanno come rompere la nostra linea difensiva. Per cui noi dobbiamo, come ho detto prima, essere molto molto attenti. Per essere attenti dobbiamo essere umili, umili nel rispettarli. Sarà una partita difficile, difficilissima. Io l'ho detto ai ragazzi, sarà più difficile della partita che abbiamo giocato contro la Roma, nella partita contro l'Atalanta, contro la Juventus, contro il Milan. Per cui io so quello che andiamo ad affrontare. Mi auguro che i miei giocatori abbiano capito tutti i messaggi che gli ho mandato. Io sono soddisfatto di come i ragazzi siano mentalmente predisposti all'aggressività, alla compattezza nel rispetto dei movimenti che dobbiamo fare. Tutti stanno portando il loro livello ad un alto grado e questo mi rincuora. Quagliarella è il nostro punto di riferimento, un giocatore indispensabile in questa Sampdoria. Io ho molta fiducia in lui, per cui parte sicuramente il titolare. Arrabbiato no, perché l'importante è creare delle occasioni da gol. Gli ho detto a Manolo, dico non ti preoccupare, ti sei creato tre occasioni insieme a Fabio perché hanno dialogato molto bene i due. Per cui l'importante è trovarcisi e poi alla prossima. Da quando sono venuto, che ero ultimo in classifica, sono sempre stato positivo e nella mia natura. Vedo che ci sono molte squadre, non so se saranno sufficienti o meno i 40 punti per salvarsi. Noi dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo. Ci saranno degli alti e dei bassi, ma non ci dobbiamo mai abbattere. Dobbiamo continuare ad essere concentrati, determinati, come stiamo facendo fino adesso. L'ambiente è splendido, ho tanta esperienza nel mondo del calcio, questi tifosi sono veramente impagabili. Bisogna ringraziarli ogni volta e ogni volta io lo faccio con molto piacere.